Ciao ragazzi, voglio provare un esperimento con voi. Speriamo che riesca. Ti chiedo di immaginare nella tua mente di pensare fortemente a una carta, ma ti do delle piccole restrizioni. Non devi pensare all'asso di quadri, no. E non devi pensare al 2 di picche. Ok? Ora pensa, immagina questa carta, nella tua immaginazione. Che carta stai vedendo? Il cerchio di cuore, giusto? Però c'è quelli che possono dire no, perché hanno pensato al cerchio di picche.